Il flusso di centinaia di migliaia di rifugiati politici e di migranti economici in pochi mesi è sicuramente un fenomeno serio. È serio per chi lascia le proprie terre per venire dopo lunghi viaggi da noi è serio anche per noi che accogliamo perché tocca anche per noi problemi di coesione sociale, problemi economici, problemi di sicurezza, problemi di identità. Serio ma non necessariamente un'emergenza, emergenza è la parola che maggiormente abbiamo usato in questi mesi. L'emergenza dà l'idea di un fenomeno nuovo, di un fenomeno imprevisto, di un fenomeno immane ma questo fenomeno che stiamo vivendo non è né nuovo. Da tempo l'Europa e il mondo conoscono il dramma dei migranti e la stessa Italia l'ha vissuto come esportazione di migranti ma anche al suo interno negli anni 40 e 50 con l'arrivo di al sud. Non è un fenomeno imprevisto perché da tempo parliamo dei conflitti, delle disuguaglianze economiche e del cambiamento climatico come possibile fonte di grandi migrazioni e non è neanche un fenomeno immane perché alcune centinaia di persone che arrivano nella grande Europa non sono quel fenomeno assolutamente ingestibile che stiamo descrivendo. Non è quindi tanto un'emergenza, il problema di fondo è che stiamo gestendo questo fenomeno in modo tardivo ed egoistico, stiamo passando nella gestione di questo fenomeno dal rifiuto del problema alla negazione, la chiusura rispetto a queste persone che arrivano a in alcuni momenti un eccesso di accoglienza altrettanto disordinata come la non accoglienza. Ed è questa cattiva gestione che anziché risolvere le paure, le preoccupazioni per un fenomeno serio stanno alimentandole, stanno facendolo appunto percepire come un'emergenza. Possiamo continuare a dividerci fra di noi, fra chi crede che sia moralmente giusto accogliere, fra chi crede invece che sia un obbligo, soprattutto per i rifugiati politici, un obbligo legale, internazionale accogliere e fra chi crede che invece non sia né giusto né un obbligo accogliere queste persone. Oppure possiamo prendere un altro approccio, un approccio in cui con serietà e con pacatezza affrontiamo dei discorsi difficili e più complicati e più scomodi, sicuramente i più difficili e complicati delle ricette facili di chi parla di muri, di blocchi navali o di frasi come aiutiamoli a casa loro. Ma se discutiamo di queste cose dobbiamo avere il coraggio di dire che la soluzione di questi problemi profondi prenderà lunghi anni, prenderà decenni e che quindi per anni e decenni dovremo convivere con il fenomeno delle migrazioni. E se dovremo convivere con il fenomeno delle migrazioni possiamo anche affrontare una terza questione che oltre a essere giusto e essere un obbligo, forse accogliere può essere anche una utile necessità anche per tutti noi. Noi viviamo in Italia che è il paese più vecchio dell'Europa, l'Europa è il continente più vecchio del mondo e l'Italia e l'Europa hanno e avranno bisogno di persone che provengono da paesi diversi dal nostro. Se questa è la strada, un dibattito serio sul futuro di questo problema è un dibattito che parla di quali istituzioni servono per una buona accoglienza, di quali scuole serviranno per una buona accoglienza, di quali quartieri serviranno per una buona accoglienza e quindi un dibattito sulla nuova società che deve accogliere per evitare gli errori del passato e di ricadere in fenomeni di cattiva integrazione che abbiamo visto in passato. È in questo che Milano, la Milano europea, la Milano che vuole anticipare può costituire un utile laboratorio.